Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un sito molto interessante che ci permette di masterizzare in analogico le nostre tracce senza avere la strumentazione analogica e lo possiamo fare direttamente da casa nostra. Si chiama mixanalog.com e adesso vi spiego come funziona. Andiamo a vedere. Ok, eccoci qua nel sito di MixAnalog 2.0, quindi come vedete all'inizio ci spiegano che cos'è. Quindi ci stanno dicendo praticamente che utilizzeremo delle strumentazioni analogiche, ce le daranno a disposizione online senza dover faticarci di mantenerle perché comunque mantenere queste macchine costa, visto che sono macchine a volte anche molto complicate e quindi sicuramente un nostro vantaggio. Ora, chiaramente non vedendo l'altra parte della sponda non possiamo sapere effettivamente quali macchine stiamo utilizzando. Non ci sono foto di queste macchine, non c'è niente, quindi dobbiamo un pochino fidarci. Ma siccome noi non ci fidiamo, comunque andremo a vedere il suono finale di quello che succede quando utilizziamo questo programma. Quindi adesso entriamo in MixAnalog 2.0, clicchiamo Start Now e vediamo cosa succede. Quindi eccoci nella prima schermata del sito. Qua mette l'artista, quindi metterò 900. Poi, project, nome project. Allora, in questo caso andremo a provare a fare un mixdown di Estate E, che è la prossima canzone che uscirà a breve. Poi dobbiamo caricare il file, quindi Upload File, scegliete il file. Allora, in questo caso io andrò a Music Logic, poi Estate E, Bounces, l'ultimo. Scegliete sempre i file WAV Files, quindi i file, diciamo, RAW, non MP3 compressi, ok? Sono un po' più pesanti, però è importante affinché il risultato sia quello desiderato. Quindi scegliamo il file, Confirm, ok? Adesso piano piano dovrebbe Uploadare, non si può dire, ma io lo dico uguale. Quindi caricare sul loro server la traccia da masterizzare. Finalmente siamo riusciti a caricare il nostro file, come vedete dalla schermata il terzo file, perché questi due file sono, diciamo, degli esempi che loro mettono per provare il programma, insomma il sito. Il terzo file è quello che ho caricato io, quindi adesso selezionerò il file che ho caricato. Andrò a vedere lo streaming, insomma i settaggi che ho utilizzato, eccetera. Ok, perfetto. E sembra tutto a posto, possiamo iniziare a processare. Quindi Start Processing. Allora, alcune cose importanti da considerare quando si utilizza questo sito. Prima di tutto controllate sempre il tempo che vedete sopra in alto a destra per capire quanto tempo avete a disposizione per fare il mixdown, eccetera, eccetera. Poi, un'altra cosa importante da controllare, la velocità del vostro internet. Quindi se andate su speedtest.net e fate go, controllerete quanto veloce è il vostro internet. Se il vostro internet è troppo lento, ecco il mio internet va decisamente bene. Diciamo che indicativamente va bene anche un quarto della velocità che vedete adesso, quindi 150, già 10 megabit al secondo dovrebbero bastare. Controllate questo perché ovviamente se non avete le giuste capacità di internet il programma potrà clippare, potrà insomma avere dei problemi di playback. Quindi, allora, 10 minuti abbiamo, partiamo con Play e vediamo l'effetto che dà questo brano. Prima sentiremo la traccia processata e poi andiamo a risentire la traccia originaria dal mio computer. L'estate è la settimana enigmistica, i piedi in nudi, il gelato ogni giorno, tec, 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 tec. La pelle abbronzata, il sole, il mare, le cene in plein air, le finestre aperte di notte, le magliette a maniche corte, la doccia un paio di volte al giorno, il cocumero, il melone, le pesche, le albicocche, le ciliegie ad ogni ora del giorno. L'estate è la pasta fredda, gli aperitivi, la birra ghiacciata, il vino bianco, le sere all'aperto e le passeggiate in centro, i racchettoni sul bagnasciuga, rovesciate in acqua complete, la bicicletta, calcetto sul mare, la spiaggia al tramonto e poi le hit estive a manetta, un po' come questa. E allora, estate, 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 e poi ci ritroviamo intorno ad un farò, a cantare a squarciagola, coi vecchi compagni di scuola, tu mi guardi, io ti guardo, tu mi guardi, chissà cosa succederà. Estate, 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 e ancora, estate, estate, e poi ci ritroviamo intorno ad un farò, e ancora, estate, 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 e poi ci ritroviamo intorno ad un farò, Ok, quindi, come potete sentire, chiaramente c'è una bella differenza. Adesso andiamo subito a sentire la traccia non modificata. Oltretutto mi sono reso conto che Core Bounce ha saltato il pezzettino finale, quindi mi toccherà riscaricarla. Però intanto, per i fini di questo video, andiamo avanti. Ok, noto subito un leggero alzamento del volume. Sicuramente il volume è molto più equilibrato nella versione modificata, quindi adesso quello che vorrei provare a fare è semplicemente manettarci un pochino. Questo è il Fairchild, che sarebbe un compressore stereo. Già, avendo utilizzato poco le manopole, già comunque il suono cambia molto, e questa è una cosa molto positiva. Analog Digital Music. Questo è un equalizzatore, potete utilizzarlo anche questo per fare qualche piccola modifica. Proviamo a fare qualche modifica, giusto? L'estate è la settimana enigmistica, i piedi in nudi, il gelato ogni giorno, tec, 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 la pelle abbronzata, il sole, il mare, le cene in plein air, le finestre aperte di notte, le magliette a maniche corte, la doccia un paio di volte al giorno, il cocumero, il melone, le pesche, le albicocche, le ciliegie, ad ogni ora del giorno. Estate, estate, l'estate è la pasta fredda, gli aperitivi, la birra ghiacciata, il vino bianco, la sera all'aperto e le passi. Utilizzando le varie manopole che abbiamo qui, mi pare di capire che questo equalizzatore è un equalizzatore lineare, questo qui, a differenza di questi qua, questi colorano molto il suono, quindi se vogliamo colorare il suono utilizziamo il Pultec e il Fairchild, che comunque sono degli standard dell'industria musicale. Poi ovviamente abbiamo un volume, questo non lo, diciamo, non sto neanche tanto a smalettarlo perché va bene. Bene, perfetto, quindi adesso finito questo andiamo a scaricare la traccia che abbiamo completato. Download, allora dice che abbiamo bisogno di 2 minuti e mezzo, il tempo rimanente della sessione sono 3 minuti e 33, quindi abbiamo tutto il tempo di scaricarlo. Allora lo scarichiamo in lossless, credo, ok, perfetto. La controlliamo a 44 100 Hz, lossless facciamo 16 bit, Possiamo anche fare 24, vabbè, facciamo 24 così poi lo andiamo, extend session, check out now. Questo sarebbe il prezzo che bisognerebbe pagare per masterizzare una traccia, 9 euro, no discount credits, tasse 22, cioè il totale 0, free download. Quindi in questo caso mi è stato concesso di scaricare gratuitamente la traccia. Free download, adesso stanno processando il mio file, alla fine del download e vedremo se effettivamente ha dato un cambiamento sonoro, sonico alla traccia originaria. Quindi faremo un ascolto comparato della traccia prima e la traccia dopo direttamente dal mio computer. Eccolo qua, abbiamo finito di esportare la traccia, quindi la traccia è stata direttamente messa nel nostro download, eccola qua. Adesso io la vado a prendere dal download, la vado a spostare nella stessa cartella dove c'era il nostro file originario, così facciamo un bel progetto logic dove compariamo e vediamo anche visivamente. Quindi mettiamo questo qua e importiamo le nostre due bellissime tracce che ci permetteranno di... Eccolo qua, quindi questa è quella nuova e questa è quella vecchia e mettiamo le due tracce, vediamo che cosa... Create new tracks. Quindi, allora, qui abbiamo quella fatta con mix analog e qua sotto invece abbiamo quella senza mix analog. Notare subito che, diciamo, l'uscita del volume è leggermente modificata, però questo, diciamo, è una cosa che può variare a seconda del modo in cui viene processata. Io poi l'ho fatto un po' di corsa, quindi non sono stato a vedere molto i volumi, le cose, eccetera. Sicuramente se fossi stato un pochino più attento avrei dato anche retta al volume d'uscita. Quindi andiamo però comunque a sentire la traccia, quella originaria, e poi andiamo a sentire la traccia di mix analog. L'estate è una settimana enigmistica, i piedi nudi, il gelato ogni giorno. Estate 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 Ok, quello che è noto particolarmente è che alcuni clip, come vedete qua, alcune onde che erano leggermente in picco, quindi per esempio questa, sono state tagliate e sono state riequilibrate quindi questa è un'ottima cosa quindi si è arrotondato molto il suono nonostante io comunque l'abbia esportata magari velocemente appunto con il volume basso ma comunque in generale vedete si è equilibrato molto il volume generale di tutti gli strumenti la differenza sonora è molto sottile ma percettibile sicuramente è una cosa molto buona per quanto riguarda appunto il sound generale della canzone quindi va molto bene chiaramente rimane soltanto il dubbio se effettivamente stiamo utilizzando dei macchinari analogici in tempo reale perché comunque insomma è un bel lavorone per chi gestisce queste cose allora per concludere mixanalog.com sembra un sito molto interessante con un'ottima prospettiva diciamo che la possibilità di poter utilizzare il sito soltanto una persona alla volta lo rende un po' limitato perché se effettivamente questa tecnologia prende piede tante persone vorranno utilizzarla e quindi sarà un po' difficile gestire tutta l'utenza però questo è un lavoro che magari l'azienda penserà a gestirlo per quanto riguarda il suono analogico posso dire che effettivamente dopo aver utilizzato mixanalog sulla traccia che abbiamo ascoltato il suono sembra decisamente migliorato è un cambiamento sottile però c'è e si è visto anche visivamente guardando le tracce in comparazione sulla piattaforma sul programma del computer quindi vi consiglio vivamente di provarla anche voi per adesso il costo è completamente gratuito per le prime due tracce se non sbaglio quindi andatevi a dare un'occhiata io ho messo in descrizione il link per andare al sito e fatemi sapere che cosa ne pensate voi alla prossima ciao l'estate è la settimana enigmistica i piedi nudi